E' il primo cittadino della città delle ceramiche ad ordinare alla direzione sanitaria, al responsabile medico del presidio ospedaliero San Marco di Grottaglie, di ricevere i pazienti provenienti da altre strutture ospedaliere sanitarie solo dopo che questi ultimi siano stati sottoposti a tampone con esito negativo, di effettuare lo screening attraverso triage a tutti i pazienti in ingresso e di comunicare al sindaco l'ingresso dei pazienti che saranno trasferiti da altre strutture. Il sindaco Dallò lo fa con un'ordinanza del 3 aprile scorso, in considerazione del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento di casi sul territorio regionale, oltre che della comparsa di sei casi sul territorio cittadino e di diverse persone in isolamento fiduciario. Considerato che le strutture sanitarie sono luoghi di potenziale contagio e di massima diffusione del coronavirus, il presidio di Grottagli e San Marco poi non risulta più essere struttura post-acuzie per Covid-19 ed il personale non è dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, potendo così favorire il diffondersi del virus tra il personale e la cittadinanza, quindi sul territorio comunale. La diffusione del Covid-19, come noto, scrive Dallò, avviene anche attraverso il contatto con soggetti asintomatici e ad oggi risultano siano stati trasferiti nella struttura sanitaria grottagliese pazienti provenienti da altri ospedali. Così si è ritenuto necessario disporre con urgenza ancora una misura finalizzata al contenimento del virus, dovendo, in qualità di primo cittadino, dice, garantire la salute e l'incolumità pubblica. Grazie.